bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di minecraft signori torniamo torniamo su questa serie dopo due settimane di pausa ma torniamo a giocare su minecraft signori a che punto ce l'hanno lasciati non me lo ricordo per niente decisamente non me lo ricordo no scherzo scherzo prima di partire il video signori io vi ringrazio in anticipo per i like per i commenti per i studenti e per il supporto il sole sta tramontando ma a noi frega poco signore scorso signori scorso video ce l'hanno lasciati che avevamo sistemato se non sbaglio le carote ammazzato un pochino di pecore per fare livelli come se non ci fossero domani infatti siamo a 52 livelli signori mi sono proprio ammazzato in quel mob spawner a cercare di recuperare più livelli possibili perché signori perché dobbiamo farci l'armatura con la musica un attimino ha rotto le scatole scusatemi che sta sta musica che è tutto sto volume di musica musica 100% anche no va bene così fatto ok fatto porca mister riprendi partiti ed è sempre alta che cazzo la ecco come che sempre alta musica basta stanno il 31 per cento fatto fatto riprendi partita alziamo il volume notare che si sentono maggiormente il sottofondo e abbiamo 52 livelli signori egli andremo a consumare tutti perché ci tocca finalmente farci la nostra bellissima armatura e la nostra bellissima i nostri bellissimi attrezzi in diamante signori finalmente dobbiamo farci anche un arco cielo del qui delle stringhe ma veramente archi io ne ho quanti ne voglio la nel mio mob spawner scusatemi perché dovrei costruirmi un arco se ne ho in maniera aiosa qui nel mio mob spawner andiamo a recuperare un arco anzi anche più di uno magari ne recuperiamo due così vediamo un attimino di incantare di incantare qualcosa di incantare l'arco perché mi serve un arco con infiniti signori perché non oggi ma nel prossimo video andremo alla ricerca della fortezza del nether signori perché dobbiamo un attimino accelerare siamo un attimino lenti con questa serie dobbiamo cercare la fortezza nether dobbiamo recuperare le blaze road poi dobbiamo recuperare io e l'ender pearl dobbiamo andare a trovare la fortezza dobbiamo uccidere il drago dobbiamo recuperare l'itra dobbiamo andare a trovare il nuovo l'aggiornamento che hanno fatto nella versione 1.21 che sono quelle cose che stavano sotto terra che non mi ricordo come si chiamano dobbiamo esplorare l'ender city l'ender city no come si chiamano quelle oh un creeper non ho come ammazzarti zio ti basta una picconata così casuale ok riuscissimo arrivare a livello 53 non mi dispiacerebbe sai no però devo evitare di non me li hai altri due grazie gentilissimo riuscissimo arrivare a livello a livello c'è un piccignaccolo che volava dai dai arriviamo a livello 53 così abbiamo tanti belli belli per fare per fare per fare esperimenti scientifici annaggia scendi il ragnetto di mamma che ragnetto antipatico dove sei il ragnè basta che non mi blocchi l'ascesa di tutti gli altri mob che poi è un problema allora io qui ho fatto una piccola modifica le stringhe qui ce l'abbiamo sì ma qua dietro ho messo allargato e ho messo la segnalista musica veramente stressato però musica abbassa mamma mia mai sentita così alta la musica in tutto questo devo prendere l'arco me lo sono dimenticato ok tu sei morta siamo a livello 53 no ma baffan bagno recupera recupera un arco abbiamo prendene due per sì e per no per sicurezza ne prendiamo due così riusciamo a incantare più cose possibili c'è qualcun altro che vuole morire male dai che sono quasi a livello 53 dai ok bravissimi così mi piacete 1 e 2 sono perfetto signori bello così il ragno è morto da solo noi siamo a livello 53 non ce ne frega più niente signori ce ne torniamo subito subito a casa via veloci con un bel salto nel vuoto mi piace troppo fare questi salti così signori bello 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 andiamo a dormire dopodiché signori ci prepariamo a incantare il mondo incanteremo tutto signori tutto 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 completamente tutto 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 incantiamo tutto l'incantabile dobbiamo anche comunque sistemare la zona da sotto che è una piattaforma volante senza basi e questa cosa non va per niente bene dai dai dormi dormi zio dormi dormi allora signori il momento ho sentito un enderman sento un enderman dove cazzo ora sei qua mannaggia lo potremmo ammazzare signori e vedrete le quali le nostre prime ender pearl potremmo anche farle prima che non ho una una spada quindi però lo lasciamo lì in vita signori lo lasciamo lì in vita allora la io se non sbaglio non ho una crafting table quindi craftiamoci tutto quanto signori ci craftiamo un bellissimo il metto che così già questo già ci piace ci craftiamo un cosa cazzo non lo so magari questo lo metti qua grazie ci raffidiamo una chest plate ci raffidiamo i pantaloni e andiamo ci raffidiamo i piedini bene così ok ci raffidiamo una spada bello così signori che cosa bellissima ci raffidiamo un piccone e siamo rimasti a secco questi due diamantozzi signori io meriterrei nel dubbio nel dubbio questi questi meriterrei scarichiamo tutto questo che attualmente non mi serve più ok nel bancale del cibo non è questo il bancale del cibo che questo è il bancale del cibo mettici questo pollo crudo e questa patata che non mi servono qua sopra rimettici i due diamantozzi che sono gli ultimi superstiti prendi la visitati come se non ci possono domani queste piume le vostre buttate qualche parte si le buttiamo lì perfetto ok signori andiamo a incantare tutto 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 quello che c'è che si può incantare lo incanteremo in questo preciso istante allora speriamo di essere fortunati più che altro allora siamo pronti mettiamo il nostro bellissimi lapislazzi iniziamo con la spada cosa mi dico la spada contro il colpo contro il colpo aspetto di fuoco mi fa cagare sinceramente bene il piccone piccone servirebbe con fortuna indistruttibilità efficienza efficienza 4 efficienza 4 non è male vediamo l'elmetto indistruttibilità 1 respirazione 2 protezione 4 protezione 4 non è nemmeno tanto male vediamo questo protezione delle esplosioni indistruttibilità indistruttibilità 3 si può fare di più protezione dell'esplosione indistruttibilità protezione 4 ecco questo sarebbe anche buono e invece gli scarponcini protezione 4 protezione e protezione allora direi con questo intanto che era indistruttibilità 3 no questa era proprio l'unica che faceva cagare andiamo con questo signori protezione 4 e speriamo che ci dia qualche altra cosa 3 2 1 sbang cosa ci ha dato respirazione 3 e riprotezione 4 signori spettacolo è il primo è andato benissimo dobbiamo metterci una indistruttibilità ma siamo messi bene ripartiamo con la spada lama sversante indistruttibilità lama sversante 3 no preferirei un scarponcini protezione 4 protezione e passa anfibio ok questo me lo dai infortuna indistruttibilità fortuna 1 che ci vuole fare con il fortuna 1 indistruttibilità 3 no questo indistruttibilità 3 indistruttibilità 1 ok protezione 4 indistruttibilità e spine protezione 4 è interessante ma noi abbiamo anche gli archi da incartare potenza potenza indistruttibilità no preferirei intanto mettere un protezione 4 qua che mi va con protezione 4 indistruttibilità 3 buono buono non mi sembra per niente male continuiamo signori continuiamo affidatezza anatema saccheggio 2 cosa che già è interessante vediamo se c'è qualcosa di meglio nelle altre cose passa anfibio 3 atterraggio morbido 2 ecco attraggio morbido 2 già sarebbe qualcosa che ci indistruttibilità 3 indistruttibilità protezione dal fuoco e invece tu che fai indistruttibilità 3 indistruttibilità ed efficienza questo l'avevamo visto l'arco se indistruttibilità 3 e allora intanto facciamo intanto mi prendo saccheggio saccheggio 2 signori e poi vediamo che sono di aggiungercelo in qualche maniera da badem saccheggio 2 e affidatezza 3 va bene va bene mi sta bene mi sta bene procediamo 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 passa anfibio 1 protezione al fuoco indistruttibilità indistruttibilità 3 indistruttibilità 1 protezione 3 indistruttibilità 3 ok qua non che me lo dà infortuna vero potenza potenza 4 ok e per caso questo indistruttibilità indistruttibilità efficienza proviamo l'arco signori tanto i livelli ce li abbiamo proviamo l'arco potenza 4 potenza 4 indistruttibilità 3 va bene dobbiamo semplicemente aggiungerci un infinitali che lo becco qui no non lo becco qui ok allora questo intanto lo mettiamo di qua vediamo il piccone se mi dà un fortuna efficienza 4 sarebbe tanta roba signori efficienza 4 sarebbe tanta roba ma protezione 4 nelle gambe mi piace molto di più protezione 4 nelle gambe che mi ha dato solo questo però mi piaceva molto di più scarponcini atterraggio morbido 3 l'abbiamo trovato signori atterraggio morbido 3 benghede e protezione 2 va bene per un atterraggio morbido 3 secondo me già è tanta roba me lo dai un fortuna mannaggia a te a chi non te lo dice pure me lo dai un fortuna indistruttibilità potenza indistruttibilità questa indistruttibilità piccone senza fortuna non è non è tanta roba però il piccone senza fortuna non serva nulla bang potenza 4 indistruttibilità 3 sono gli stessi se è tuo invece efficienza tocco di velluto e fortuna 3 effetto signori quello che volevamo abbiamo il piccone con fortuna 3 sono questi 30 livelli precisi precisi non possiamo incantare più niente se non dei libri che se non sbaglio dovremmo poter fare dovremmo poter fare intanto aspetta un attimo vai all'incudine mi dici se intanto i due i due archi li posso unire per fare un super arco potenza 5 indistruttibilità 3 costo 11 mi sega per avere un potenza 5 si va bene ha giudicato mi sta bene signori mi sta bene allora la spada la mettiamo di qua il piccone lo mettiamo di qua il piccone con fortuna 3 però è un po particolare signori il piccone con fortuna 3 è un po particolare è un po particolare però però dai protezione 2 atterraggio morbido 3 protezione 4 protezione 4 indistruttibilità 3 e protezione 4 respirazione 3 signori diciamo che abbiamo 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 siamo protetti siamo 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 decisamente messi meglio ci restano gli ultimi 19 livelli non ho intenzione di andare a fare altri livelli perché l'ultima volta ci ho perso una vita e non se ne parla proprio più abbiamo delle pelli di mucche da qualche parte mi sa di dovremmo averle delle pelli di mucche no non posso farmi dei libri ma stai scherzando? non posso farmi dei libri questa cosa mi sta scioccando non ho né carta né pelli di mucche da nessuna parte questa cosa mi ha abbastanza scioccato e non ho neanche una freccia da poter prendere una freccia ce l'ho una freccia al mio arco ce l'ho non ho non ho frecce bene bene quindi dobbiamo un attimino salire sopra vediamo ritorniamo sopra riprendiamo un altro arco signori ci spariamo questi altri livelli nella speranza di trovare un'efficienza vabbè che abbiamo frecce come se non ci fossero domani però 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 sapete sarebbe meglio sarebbe molto meglio riuscire ad avere un arco con infinità che mi stuzzicherebbe molto di più quindi recupero altri due archi magari no con 19 livelli non so quanti archi riesco a farmi però va bene saliamo un attimino sopra signori e vediamo recuperiamo un arco e proviamo a fare è vero potevo ammazzare le mucche e farmi dei libri ma non ha senso signori non ha senso non ha senso siamo riusciti a raggiungere un buon livello di protezione quindi va bene così va bene così va bene così va bene così allora recuperiamo un altro un altro solo arco recuperiamo di tutte e due vediamo poi se che siamo fortunati e ci finisce bene recuperiamo i due stack di frecce decisamente sì perché se andiamo nel nether in queste in queste condizioni senza un arco con infinità mi servono ma quello è un relitto? mi è sembrato di vedere un relitto in lontananza signori non ci ho fatto caso ma mi è sembrato di vedere un relitto in lontananza potrebbe essere una cosa interessante dovremmo fare anche un porto nella nostra base signori dovremmo fare un porto per riuscire ad a muoverci con una barchetta qui vicino e poterci spostare più velocemente allora andiamo veloce 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 vediamo se per caso se io ti metto questo potenza 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 1 non otteniamo granché signori decisamente no decisamente no va bene va bene allora limitiamoci limitiamoci a questo per oggi signori per oggi ci limitiamo a questo io poi magari off camera vedo di recuperare qualche altro livello vedo di recuperare qualche altra situazione e poi con calma e poi con calma vedo di recuperare più che altro qualche livello vedo di incantare qualche libro vediamo se riusciamo a essere fortunati e a trovare qualcosa di interessante detto questo signori io vi ringrazio per questo video eravamo partiti con un'armatura in ferro siamo con un'armatura incantata in diamante e con delle anche belle armi detto questo signori vi ringrazio per i commenti presenti e per il supporto noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento bella raga ciao